Funziona, è pesante dal punto di vista organizzativo, è pesante. C'è uno stress continuo dei docenti e della dirigente, però devo dire che i genitori del nostro istituto collaborano. Questa mattina le scuole abruzzesi hanno fatto nuovamente squillare la campanella. Da oggi tutti gli studenti, fino alla terza media, sono tornati a fare lezioni in presenza, mentre nelle scuole superiori metà degli studenti, ad alternanza, sono ancora in didattica a distanza. L'organizzazione è complessa, come spiega ai nostri microfoni la dirigente scolastica dell'Istituto Delfico di Montesilvano, ma che ha trovato la collaborazione di alunni, genitori e docenti. In molti, negli ultimi giorni, Comitato Tecnico Scientifico in primis, hanno esternato perplessità per il via libera alle elezioni in presenza, deciso dal governo Draghi, e il sindaco di Avezzano, di Pangrazio, alla luce della situazione epidemiologica, ha deciso il proseguimento della DAD anche per gli studenti di seconda e terza media. La preoccupazione, infatti, non riguarda solamente lo stare in classe, ma anche gli spostamenti verso le scuole, nel timore che ci si possa accalcare sugli autobus. La preoccupazione, diciamo, è per l'indotto, non è tanto all'interno della scuola. È ovvio, ad esempio, per le superiori, dove, diciamo, la stragrande maggioranza degli alunni molte volte è pendolare, quindi usa mezzi di trasporto, e lì i problemi ci possono essere. Noi qui abbiamo i piccoli, fra virgolette, e quindi vengono dal quartiere, vengono a piedi alla scuola secondaria di primo grado, oppure li accompagnano i genitori, quindi qui non c'è problema di trasporto. Dentro le aule i banchi sono fissati con i segnaposto dei piedi, non fanno più ricreazione fuori, al bagno solo due, in tutto l'istituto. Insomma, abbiamo un protocollo pesante, che però fino ad ora ha fatto in modo che i casi positivi che ci sono stati, siano stati tutti isolati. Abbiamo un bel rapporto, una connessione continua col Dipartimento di Prevenzione. Quando, diciamo, siamo in presenza, appena c'è il primo caso, comincia una comunicazione fitta. Noi comunichiamo i casi e, diciamo, tutte le caratteristiche di ogni caso, e il Dipartimento ci dice esattamente cosa dobbiamo fare. I ragazzi le sono sembrati contenti di tornare a scuola? Beh, quelli che ho visto erano sorridenti. Poi c'è sempre qualcuno che non verrebbe a scuola mai, diciamo.